ciao ragazzi bentornati un video un po particolare perché la prima volta che recensisco una pellicola perché è la prima volta perché io le pellicole ne le utilizzo e chi mi conosce sa che non sono un amante della pellicola ma stavolta per sdc plus ho trovato una pellicola finalmente veramente invisibile si può dire veramente che si indossa bene non sembra esserci ed è veramente di qualità elevata dlk un'azienda che mi ha attratto perché ne parlavano un gran bene e in effetti queste pellicole vale la pena installarle installarle perché proteggono con quello schermo da le righe superficiale quelle che si formano anche con l'unghia quindi qualcosa se non metti la pellicola paghi sempre anche incontro luce per i maniaci lo so che sono cose invisibili ma se con la pellicola evitiamo e soprattutto questa pellicola è ricostruente nel senso che se hai dei micrografi stando attaccata molto tempo molto tempo tende a cancellare così a detta dell'azienda questi micrografi ma al di questo appunto facilissima l'installazione zero bolle infatti la vedete c'è ma non si vede soprattutto super compatibile sia con lo sblocco ad ultrasoni quindi con il dito vedete tac nessun problema quello che mi è piaciuto è risposta delta c'è 100 per cento ultrasuoni è praticamente 99 per cento e per quanto riguarda il discorso visibilità anche qua 99 5 cioè quando una pellicola non mi toglie più dello 0,5 per cento da tutti i componenti allora per me va bene ecco queste di ultima generazione sono veramente a display quasi nudo si può dire quindi vanno bene allora vi faccio vedere la pellicola qua è già applicata vedete è stato veramente compatibile con tutte le skin con i bumper veramente ottima anche qua quando ci arriva lo sblocco del viso che noi guardiamo assolutamente vedete che si può tranquillamente sbloccare adesso vi faccio lo smartphone con il viso senza problemi e qua il cerchio bianco della luce si attiva senza problemi quindi la pellicola non ostruisce la visualizzazione della riga bianca ma soprattutto i due fori della camera rimangono liberi importante ci sono tante cove e scusate pellicole che hanno la copertura totale delle due camere io la sconsiglio perché creano un filtro sopra la fotocamera in cui voi dovete fare video e foto quindi no comprate pellicole che abbiano o lo spazio intero come quello originale di samsung o questa che ha i due vetti due forellini per far lasciare libera le cam le cam devono essere sempre libere nella confezione di questa lk che costa solo 8 euro e 99 veramente insomma quindi un prezzo ce ne sono ben tre c'è tre pellicole a 8 euro e 99 c'è poi una gradita sorpresa chiunque la compra gli regalano un caricabatterie wireless che dovrebbe essere anche fast charge da circa 10 watt dai 5 ai 10 watt quindi oltretutto vi regalano un caricabatterie che forse costa più delle pellicole forse un discorso promozionale ma loro non li pagano se li fanno dare come gadget però a 8 99 caricatore più pellicole veramente anche questa è una cosa che mi è piaciuta per quello deciso di parlarne poi dentro è molto facile vedete c'è tutto il kit di installazione qua ci sono i guid sticker le due salviettine iniziali per togliere rimuovere la polvere una un liquido l'altra asciuga poi assolutamente lo spatolatore per non formare le borre il blocco in bioadesivo per bloccarlo pannettino rimuovi tutto quanto insomma il kit completo qua ci sono le pellicole con le varie linguette seguire il video di installazione è fondamentale io lo consiglio perché con il video infatti non ho avuto nessun problema di bolla io che non ho mai cioè non ho mai ne avevo installato forse due tre pellicole in tutta la vita perché non mi interessano al primo colpo installata perfettamente senza bolle quindi devo dire che il video è semplice dura un paio di minuti se lo seguite tutto arrivate a installazione definitiva poi è tutto seguito bene dalle linguette che si tolgono vi rimane incollata senza bolle spingete un po sui fianchi e il gioco è fatto quindi volevo presentarvi questo rapporto qualità prezzo ma questo non è un regalo quasi con il caracchia batterie di lk quindi vi consiglio queste pellicole perché sono veramente ottime ecco se incominciamo a fare pellicole così super trasparenti con visualizzazione schermo quasi a nudo compatibili con tutte le uscite delle cam con l'ultra sony per lo sblocco e tutto quanto quindi come aver quasi lo schermo allora incomincerà a piacermi anche a me ciao e grazie alle prossime da 4k tech da paolo guala state lì perché arrivano dei video molto interessanti il team vado a fare una h3g novità sempre aggiornati ciao